Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi ragazzi ci rilassiamo, è il giorno del souvenir digitale. Che cos'è il souvenir digitale? È un contenuto, un video, una serie tv, un'applicazione, un software, una tecnologia. Un qualcosa che nel suo grande o nel suo piccolo possa cambiare in meglio la nostra vita e il nostro lavoro nel mondo digitale. Se sentite qualche trapano che entra nel nostro episodio non vi preoccupate. È tutto regolare, lo sapete che qui nel vicinato amano fare lavori come se non bastasse oltre le terrazze. Anche il signore del piano qui sotto allo studio ha deciso di rinnovare l'intero appartamento. Quindi bontà sua insieme al trapano che ci porta novità. Ci porta novità anche il souvenir digitale oggi che è una cosa molto particolare. Una serie tv che ho conosciuto grazie a voi finanziatori. Voi produttori di Strategia Digitale siete il cuore, la fucina dove nascono le idee che portiamo qui nelle orecchie di tutti. Allora andate su strategiadigitale.info se non siete ancora produttori e non avete ancora scoperto come diventare parte di Strategia Digitale o semplicemente se volete seguire da Telegram molto più comodamente anche il backstage del nostro podcast oppure volete fare una domanda o scoprire la lista dei souvenir digitali pubblicati fino a oggi. Ma ora bando alle ciance, ragazzi. E' arrivato il momento di scoprire qual è il souvenir digitale di oggi. Il souvenir digitale Ciao Giulio, ho visto che nell'altro ultimo podcast hai parlato di start-up e finanziatori e vi dicendo non puoi assolutamente perderti se non l'hai già vista la serie tv Silicon Valley che ti consiglio caldamente. Ciao! Grazie mille Stefano. Dopo il suggerimento di Stefano mi sono fiondato a vedere Silicon Valley. Ho approfittato della prima serata in cui libero perché mia moglie era uscita potevo vedermi finalmente quelle serie che piacciono a noi geek e allora ho avviato Silicon Valley. Silicon Valley la trovate su NaoTV, l'On Demand di Sky. Io sono un abbonato a Netflix, non ero abbonato a NaoTV, non lo sono tuttora perché ho preso e me la sono vista con il periodo di prova gratuito su NaoTV. Quindi se non l'avete mai utilizzato avete mi pare 15 giorni per vedervi questa fiction gratuitamente. Vi racconto un pochino senza spoilerarlo naturalmente il fatto di che cosa parla. Fondamentalmente Silicon Valley parla di un piccolo gruppo di ragazzi che si unisce inventando in una piccola diciamo startup tecnologica, startup digitale e lanciano questa applicazione che però è totalmente priva di valore. Infatti non se la fila nessuno, anzi è tutta codice, non si riesce a comunicare bene, non si capisce a cosa serva, anche l'interfaccia è molto rustica. A un certo punto però si scopre, questo non lo sto spoilerando perché è tutto nei primi minuti, si scopre che in realtà questa applicazione che serve per la musica, per il mondo del copyright sulla musica ha un algoritmo di compressione dell'audio che può essere utilizzato su tutto estremamente efficiente, molto più dell'MP3. E quindi in base a questo brevetto, questo discorso dell'algoritmo si scatena tutta la vicenda, parte tutto da questa scoperta di questo algoritmo che è stato in maniera geniale inventato dal protagonista di questa storia. E poi tutti lo vogliono, a quel punto passa da essere il super sfigato all'uomo più desiderato della Silicon Valley. Lo vuole il suo compagno che gestisce un incubatore che in realtà è una casa che ha acquistato vendendo una sua startup e quindi è un pochino lui un po' più senior nel mondo degli startup. Ha comprato una casa con i soldi della vendita di questa startup e ospita in questa casa su delle brandine altri startup squattrinati che vogliono però vivere nella Silicon Valley, quindi sono trasferiti lì apposta per fare la loro startup, in cambio del 10% delle quali della loro società. Lo vuole l'amministratore delegato di una grandissima società, diciamo la Google del caso, la società che viene rappresentata come la più innovativa, quella con la crescita più veloce della Silicon Valley, che è un personaggio particolarissimo perché mentre il gestore dell'incubatore è sostanzialmente un geek versione cresciuta, che però continua ad andare in giro con le t-shirt super larghe, i capelli lunghi, i sandali, sta tutto il giorno a sosteggiare caffè e a atteggiarsi da futuro imprenditore o da imprenditore alternativo. Lì l'amministratore delegato di questa grande company della Silicon Valley è un tipo tutto particolare, quindi tutti descrivono l'incontro con lui come un momento unico nella tua esistenza, te lo ricorderai per sempre. È un po' lo Steve Jobs, è un po' un'ibridazione tra lo Steve Jobs di turno e il Sergei Brino o Eric Smith del caso e ha uno spiritual coach che vola direttamente da lui ogni volta che ha bisogno di un consiglio e gli dà risposte tipo la risposta è dentro di te ma è sbagliata, come recitava un personaggio copico qualche anno fa. Allora, ogni personaggio al di là del protagonista vuole a quel punto, al momento del successo, unirsi a lui nella crescita di questa startup e quindi anche lui come protagonista deve fare delle scelte, deve mettersi in gioco, creare delle strategie che non aveva per niente creato perché si era focalizzato solo sulla tecnologia e non sulla strategia e seguiamo un po' il suo viaggio nella crescita di questa startup, Pied Piper, si chiama la startup che lancia, che passa dall'estero di questa startup per la protezione del copyright dei brani musicali a un algoritmo di compressione. Questo è il fatto, ok? Ora non vi racconto nient'altro del fatto perché non ve lo voglio spoilerare ma vi dico perché secondo me vale sicuramente la pena di vedere questa serie. Numero uno per l'ironia, si fa tantissima autoironia e si sfatano tantissimi luoghi comuni nel mondo delle startup digitali, loro parlano tutti questo startupese per cui dicono no, è il mio incubatore, devi fare il lancio, la exit di qua e di là, quindi è carino perché rappresenta anche tutto questo mondo che in Italia soprattutto viene visto come un punto d'arrivo alla Silicon Valley, se fossimo nella Silicon Valley, tutto questo mondo del venture capital, dei business angel, lo in Silicon Valley sì che sanno fare le cose. Ecco invece ti sfata completamente questo mito anche tutte le frasi ispirazionali che vediamo condivise largamente sui social network, su LinkedIn, ah vedi l'amministratore delegato di quella società, il presidente di quella ha detto questa frase ispirazionale, viene tutto demitizzato, ecco ti fai delle gran risate e si scende proprio terra a terra e secondo me essere terra a terra, concreti, non farsi prendere per il naso da queste mode del momento soprattutto in campo business è sicuramente un valore, solo per questo meriterebbe di essere vista. Il secondo motivo per cui merita Silicon Valley è il fatto che dimostra chiaramente nella storia del personaggio l'importanza di una strategia solida di business digitale. Che voglio dire? Voglio dire che quando viene creato Pied Piper dal protagonista, questo startup che lancia, lui è completamente focalizzato sulla tecnologia, sull'algoritmo, cioè sulle feature della sua startup, della sua applicazione. Si perde completamente la riflessione sulla value proposition, per esempio. Cioè è defocalizzato, infatti lo prendono tutti quanti in giro perché questa cosa che sta creando non serve a niente, a nessuno. E lo sanno tutti, quando lo racconta è evidente che non serve a niente, ma lui è focalizzato sulla tecnologia. In realtà il valore vero sta da un'altra parte, questo poi lo capiscono i vari personaggi che si contendono e che intuiscono, ci sono due diversi soggetti. C'è un business angel, diciamo, illuminato, che fa le sue conferenze al TED, a che là è da morire perché ti smitizzano anche il TED, fa i suoi interventi al TED dicendo abbandonate il college, iniziate la vostra startup, e c'è questo quindi business angel illuminato. E poi c'è l'imprenditore della grande società che vuole acquisire, comprare la sua startup. E il personaggio deve scegliere tra vendere la sua startup completamente oppure venderne delle quote e avere comunque una consulenza ma fare lui tutto il lavoro di crescita. Ecco, loro intuiscono il vero valore, che è l'algoritmo di compressione. Allora è molto importante per noi, per la nostra startup digitale, per il nostro progetto. Riflettere sul valore, ragazzi, lasciate stare le tecnologie, mettetele via da parte, chiudetele nel cassetto e riflettete sul valore. È il valore che dovete mettere al centro della vostra strategia. Iniziare da lì, in che modo quello che fate fa veramente la differenza per le persone, per i business, per le aziende, per i professionisti. In che modo gli cambia la vita in meglio? Allora, un algoritmo di compressione dell'audio che ti permette di istantaneamente ascoltare musica sul tuo smartphone, diminuendo la trasmissione di dati e quindi i tempi di caricamento e tutto. Insomma, se ti dico, ho fatto un algoritmo che ti consente, appena clicchi sul tasto play, di far partire il video YouTube in Super HD dal tuo smartphone, quando c'è poca linea, è chiaro il valore. Se ti comincio a dire, come diceva lui, Pied Piper è una piattaforma che riesce a riconoscere il brano musicale facendo il match in un database, però già mi sono perso, già mi sono annoiato. Allora, gli manca la value proposition? Gli manca una strategia di comunicazione? Non sa raccontare quello che fa? Si concentra sulle feature, non si concentra sul valore. Ed è tutta tecnologia. E invece, uno degli altri soggetti, non vi voglio raccontare troppo, però la grande company che vorrebbe acquisire Pied Piper è un genio della comunicazione. È veramente un genio della comunicazione. E dice, annuncia le cose ancora prima di farle. Subito, con video, spot televisivi. Ecco, là c'è il predominio, il dominio della comunicazione. Ed è molto importante saper non solo fare, ma anche comunicare quello che fai, portare le persone nel processo della comunicazione. E poi, una terza cosa che gli manca, per esempio, è completamente l'idea della struttura. Cioè, quando cominciano a fare le cose sul serio, si accorge che sono cinque ragazzi in un appartamento dove ognuno fa qualcosa, ma non si sa bene cosa fanno, non si sa chi serve, chi non serve, e si trova a dover fare delle scelte. Allora, quando faccio un business digitale, ogni elemento è importante. Cioè, è importante l'organizzazione, capire chi fa cosa, il valore e l'apporto di ogni singola persona. Infatti c'è tutta una questione rispetto al valore delle persone che partecipano al progetto. Ecco, sto un po' sul vago per non fare lo spoiler. E questo è fondamentale. È fondamentale immaginare sin da subito, quando lanci un tuo progetto. Io lo dico sempre ai miei studenti, che dicono, professore, stiamo facendo questa cosa. E dico, chi la sta facendo? Quanti siete? Come vi dividete la torta? Ah, ma no, per ora non facciamo i soldi, poi vedremo. E poi vedremo, no. Bisogna chiarire subito. Cioè, ogni progetto va immaginato, se volete fare del business, vero, poi se volete fare lobby, un'altra cosa, va immaginato come una start-up, come una società. Quindi dividersi le quote, capire chi fa cosa, qual è l'apporto di ognuno, quali sono le regole del gioco. E in questo processo, il protagonista dovrà entrare per portare la sua tecnologia al livello di essere una vera start-up. Il terzo elemento, per cui secondo me vale la pena di vedere questa serie Silicon Valley, è la strategia, lo sviluppo. perché quando io avvio qualcosa, ci sono tanti modi di portarla avanti. Lo stesso protagonista deve scegliere, dicevo, se vendere l'intera start-up e fare la exit, cosiddetta. Quindi lui ha creato una tecnologia, la vende, si porta a casa, mi pare 10 milioni era l'offerta della grande company e con questi 10 milioni poi fa un'altra start-up o ci fa quello che gli pare. oppure se svilupparla lui stesso. Allora, questo te lo devi chiedere quando avvio un business. Non è che avvio un business, ma che devi fare? Devi fare una start-up perché poi vorrai vendere la tua start-up oppure stai facendo una start-up perché vuoi portarla avanti e lavorarci per il resto della tua vita. Questo è fondamentale perché cambia tutto, fa tutta la differenza del mondo nella gestione, nell'investimento dei budget, nella gestione della crescita della società, della distribuzione dei dividendi, dell'assetto, di tutto. Allora, è importantissimo capire qual è il futuro, cioè saper guardare in avanti come si svilupperà da qui a 5 anni, da qui a 10 anni la tua società. In base a quello lì, fare le scelte da subito. Cioè, anche se state nel garage, nella soffitta, nella cameretta a sviluppare la vostra start-up, dovete vederla già come una società, una società vera e propria, come un'entità impersonale, un soggetto giuridico, una persona giuridica che poi avrà delle sue dinamiche di business perché se tu pianti la quercia dentro il bicchiere di vetro, quella quercia a un certo punto avrà dei grossi problemi. Se tu la cominci a piantare nella terra, nel posto giusto, quella quercia potrà crescere piano piano nel tempo e diventare un grandissimo albero. Allora, un esempio di questo, per esempio, è che il protagonista scambia il 10% della società con la possibilità di dormire sulla brandina di questo responsabile del cosiddetto incubatore che si è comprato questo appartamento e lo fa dormire lì in cambio dei quote della società. Ma le quote della società hanno un valore. Cioè, è vero che il 10% di 0 è 0, ma è vero anche che il 10% di 100 è 10 e di 1000 è 100 e così via. Quindi, quando imposti, anche fai partecipare le persone ai tuoi progetti, per quanto possano essere diciamo a un livello embrionale, non devi perdere la visione su quello che diventeranno. Cioè, non dare quote così a destra manca o, sì, vieni a fare il progetto, lo facciamo insieme, 50-50. Beh, un attimo. Pensaci bene, perché quel 50-50 che per oggi per te magari vuol dire non pagare per il lavoro del tuo amico che partecipa con te al tuo progetto, ti potrà tornare contro e magari vale la pena di spendere 1000 euro per fargli fare un lavoro che però rimane al 100% dalla parte tua. Quindi, avere una strategia, io non dico che un modello è migliore dell'altro, dico che è importante avere una strategia di sviluppo business sin da subito, vedere verso il futuro e quindi, un po' per l'autoironia e la capacità di smitizzare tutta questa epopea delle start-up californiane, della Silicon Valley in grande pompa e loro sì che stanno a fare il business. Non è vero per niente, ve lo dico per esperienza, in Italia siamo maledettamente bravi a fare business, più di loro perché siamo abituati a fronteggiare situazioni difficili, quindi non facciamoci prendere per il naso, non siamo secondi a nessuno. Un po' per la capacità di immedesimarsi nel personaggio e non fare i suoi stessi errori nel protagonista della Silicon Valley, un po' per la capacità di vedere nella storia di questa serie come le cose da piccole possono diventare grandi anche a una velocità inaspettata, il mio consiglio è sicuramente di vedere, godervi e rilassarvi davanti a Silicon Valley. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ci tengo a sapere cosa ne pensate di Silicon Valley dopo averne visto qualche puntata e mi potete scrivere tranquillamente tramite telegram.me slash Giulio Gaudiano non mi resta altro che ringraziare coloro che hanno finanziato la start-up di strategia digitale, i nostri finanziatori, i nostri produttori, gli ascoltatori, tra voi che hanno deciso di mettersi in gioco personalmente in questa start-up di divulgazione digitale e finanziarla ogni mese con un importo piccolo o grande. Gianluca Sagone, Federico Izzi, Deniz Calzolari, WPOK.it, Francesca Traverso, Roberto Andreoni, Matteo Neroni, Franco Nicosia, Fabrizio Guidi, Marzia Tomasin, Paolo Pugni, Beatrice Biasuzzi, Niccolo Ravanelli, Cristian Manganelli, Enrico Girotti, Vittorio Neri, Andrea Della Via, Fabio Impedovo, Lin Vlog, Mattia Garbarini, Antonio Mattioli, Chiara Cirinna, Rocco Ieraci, Fabio Marcialis, Alessio Casarolli, Fulvio Iulita, Agata Amato, Jacopo Olivia, Oliopoldo, Antonino Cotroneo, Paolo Gollo, Massimiliano Berto, Rosario Rizzo, Stefano 2.0, Mariano Lampis, Maura Rizzo, Mirko Disidero, Francesco Cucuini, Roberto Pagliarini, Lorenzo Mari, Rodolfo Monacelli, Max Saggia, Pillolitecnologia.it, Marco Paolini, Marco Bazzo, Daniele Risi e tanti altri finanziatori che anche solo con un dollaro al mese fanno parte della nostra community. Per oggi è veramente tutto, ma non è mai veramente tutto. prima di ringraziare Sara Veltri, cuotrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it, curatore del nostro sound design e della nostra sigla che è in questo momento partita. Un abbraccio a tutti ragazzi, dai, buon giovedì e ci vediamo online. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.